buongiorno mi piace ci vuole ci vuole il fondo di domani lo firmo metto una metto guido a punto facciago allora guido ci siamo sentiti mai detto guardando mi farebbe piacere venire un attimo lì a parlare perché per diciamo parlare di quello che diciamo ti sta arrivando e facciamo faccio un attimo un piccolo recap cosa succede anzi se lo vuoi se vuoi aiutare a far aiutarmi a farlo tu però fondamentalmente escono le intercettazioni della juve tra le intercettazioni della juve dopo una se prima seconda nella terza ondata esce questa questo estratto di una tua intervista di una tua intervista scusami di una tua telefonata una conversazione telefonica con pratici che diventa anche una meme perché tra l'altro la frase che viene estratta chiedo se ce la potete mandare al botta al volo è sulle plus valenze dove tu gli stai facendo i complimenti correggimi se sbaglio per come sta facendo le pro no in realtà non gli sto facendo le complimenti si sta parlando del fatto che in un'intervista in un'intervista precedente che avevo fatto a cherubini la sua gestione era stata indirettamente criticata perché durante l'intervista si era parlato cherubini aveva parlato della decisione della società di non operare più con quel tipo di mercato con quel tipo di pratica e quindi questo poi lui era già come si dice direttore sportivo del tottenham e siccome siamo amici e ci sentiamo spesso mi ha chiamato e si commentava quell'intervista e io gli dicevo che avevo messo meno enfasi di quanta ne volesse l'ufficio stampa della juve sulla questione plus valenze perché l'intervista la volevo fare su un altro argomento l'avevo comunque messa le frasi infatti lui aveva notate e che però io comunque avevo ribadito al capo ufficio stampa della juve che non era il caso di demonizzare paratici per quello perché qualcuno glielo diceva di farle le plus valenze e di ringraziare paratici che per tre anni aveva sistema mascherato i problemi di bilancio e lui dice ma che tre sei sette perché poi tende anche sempre un po esagerare paratici però ecco questa è la conversazione una conversazione che poi è diventata oggetto di di secondo me di incomprensione perché io non voglio credere alla mala fede di alcuni colleghi che si sono divertiti a enfatizzare una se ne avevo qualcuno infatti da farti vedere no ce l'avevo qualcuno poi guido da farti vedere però non ti volevo interrompere perché dice guarda la cosa che mi disturba di quello che è successo su su twitter in questo momento è che credo che ci sia che vengano ricostruite delle cose in maniera sbagliata io non so se per malafede o ti stai riferendo a posso fare dei nomi a pisto che questo è il twitter sono dei colleghi sempre abbastanza aggressivi devo dire nel loro porre le questioni ma non credo che ci sia malafede da parte loro credo che ci sia una caccia mi secondo che leggo solo altri dice da quando da quanto si evince da appunto le intercettazioni dalle motivazioni della sendenza c'è un giornalista che era conoscenza delle manovre di pratiche delle plusvalenze artificiali della juventus credo che il pubblico debba sapere di chi si può fidare vero quindi a questo ha taggato ha taggato anche l'ordine dei giornalisti allora io credo che questa cosa vada spiegata perché poi uno può anche non aver compreso io ripeto nonostante questi colleghi siano sempre piuttosto aggressivi nel porsi sui social network cosa che io a me non piace detto ciò secondo me bisogna spiegare le cose perché questa questa cosa è sbagliata è proprio sbagliata nella sua ricostruzione perché sembra che mi accusino di parlare con i dirigenti della juve beh cavoli io a quell'epoca sono le tue fonti diciamo quelli no ero la prima firma della rubrica juve del giornale che più di tutti parla di juve e se non parlo con i con i dirigenti della juve mi devono licenziare il mio editore mi deve cacciare io parlo con presidente con dirigenti con l'allenatore con a volte anche con qualche giocatore è il mio mestiere parlare con loro quindi se in quel periodo la dirigenza era intercettata ovvio che ci sono delle intercettazioni con me sarebbe tra virgolette grave non ci fossero perché parlavo tutti i giorni con loro e parlavo di cose di juve anche per incalzarli sugli argomenti ecco quindi questo è una roba di cui non devo nascondere nulla posso chiederti una domanda guido tra l'altro invito pistocchi sia piacere ovviamente quando vuole a venire qui a parlare magari penso che anche tu insomma guido possa aver piacere di avere un confronto nessuno problema meglio soprattutto se è un confronto educato perché ecco quello che non non è non è gradevole e sono i confronti aggressivi e maleducati ma bistocchi ti dico è venuto è venuto qua secondo me è molto twitter che porta a un tipo di comunicazione violenta più che la persona e ti volevo chiedere una cosa perché pistocchi per esempio mi accusa di essere connivente capisci connivente è una brutta parola perché una parola che si usa quando si parla di malavita organizzata e quindi questa cosa andrebbe usata con cautela anche questa è una roba che è vero che twitter può portare però riflettere siamo siamo professionisti no perché sai se non voglio difendere pistocchi però dico devi stare in quei caratteri lì però effettivamente un epitodo insomma adesso ma noi conosciamo tanti noi conosciamo tanti sinonimi siamo giornalisti quindi possiamo non non siamo verdurieri e quindi quello che voglio dire è che no ecco la domanda ti volevo fare questa domanda per capire un attimo perché ti faccio un esempio io per altre cose lavoro con la rai e ogni tanto mi faccio il flash se mi intercettassero ma non perché dico delle robe perché quando hai certi rapporti no io seguo la comunicazione di alcuni eventi loro entri in come si dice anche con delle figure magari importanti ma in molta confidenza e finisci per parlare come due amici no quindi ti volevo chiedere non mettendo cerco di sembra che te la mette in bocca io ma quella cosa lì che ta decce tu compratici che scusa la domanda diretta ma che rapporto hai di amicizia c'è c'è un rapporto nale guarda è un rapporto professionale perché nasce professionale poi dopo sai quando ti frequenti per tanti anni dopodiché poi non è una persona con la quale per esempio non sono mai andato a cena insieme perché non è mai capitata l'occasione ma è una persona con la quale lo farei nella quale con la abbiamo parlato a volte anche di figli e di e di vacanze ecco voglio dirti perché poi insomma li frequenti tutti i giorni e finici per parlare di quello però per esempio quello che tu dici no al fatto che a volte nelle telefonate ci si lascia andare è assolutamente vero ma in questo caso io veramente non ho nessun tipo di non ho niente di cui niente di imbarazzante che è stato detto che a volte si dicono delle cose imbarazzanti al telefono e poi ci ripensi sono d'accordo con te cavoli se sono intercettato questa è la bomba in questo caso però quello che voglio dire e nella mia dialogo con parati 5 delle cose pacifiche perché appunto pistocchi dice se lui sapeva doveva denunciare ma il problema è che le cose che sapevo io ne sapevano tutti le sapeva anche pistocchi medesimo che intuitava che le plusvalenze fasulle erano di dominio pubblico il problema delle plusvalenze è che è una pratica utilizzatissima nel calcio italiano da una vita e non è neanche illegale perlomeno non è illegale fino 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 alla sentenza del 20 di gennaio perché c'è una giurisprudenza c'è una sentenza del gruppo di milano del 2008 che assolveva milano inter ci sono c'è una sentenza del tribunale di torino che assolveva la juventus di giraudo e moggi per le stesse ragioni ci sono tante sentenze di giustizia sportiva perché eravamo arrivati anche nell'ultima nella penultima sentenza di giustizia sportiva a dire che non che le plusvalenze non erano non si potevano calcolare quindi quando io parlo con paratici e gli dico ti devono ringraziare perché hai fatto le plusvalenze dico una roba pacifica che era stata scritta e scritta sul bilancio della juve che c'è un tot di plusvalenze ogni anno è ovvio che le faceva lui è ovvio che non le faceva da solo perché nessun direttore sportivo siamo seri prende iniziative da solo in un per di questo genere e quindi mi spieghi cosa dovevo denunciare una roba che c'era scritta nel bilancio della juve alla portata di tutti una cosa che era stata scritta sul giornale su tutti i giornali ma la ti cito due bravissimi colleghi che io ammiro molto giudice del corriere dello sport e iaria della gazzetta dello sport l'avevano scritto anche loro che la juve che la juve faceva le plusvalenze tra l'altro iaria uno dei più bravi a livello di finanza credo sono perfettamente d'accordo con te collega che stimo tantissimo siamo amici no perché noi che ci vediamo tanto ma comunque tutte le volte che ci siamo visti ho sempre avuto piacere a confrontarmi con lui dicono perché non condannavi ti faccio qualche domanda dalla chat dicono plusvalenze si quelle fittizie no e perché non condannavi questo sistema sul tuo giornale hai mai parlato di plusvalenze su tutto sport ma certo che ne abbiamo parlato ma sai condannare e tu condanni se c'è una legge se non c'è una legge perché cosa condanni noi dicevamo noi scrivevamo ma ma peraltro come scrivevano tutti non è che sia un punto d'onore per noi scrivevamo che questo meccanismo qua avrebbe appesantito il bilancio finisce per ingolfare quindi non è che dovevi scrivere questo è un imbroglio perché tecnicamente un imbroglio è se c'è una legge se non c'è una legge io non sono né legislatore né giudice quindi io posso semplicemente dire che quel meccanismo è un meccanismo che ti dà un beneficio iniziale e che poi diventa un boomerang perché poi devi pagare gli ammortamenti dei giocatori che ti sei caricato a bilancio che quindi è una è un meccanismo con il quale si puoi stare a galla ma che poi alla fine ti fa affondare infatti poi devi sempre o ricapitalizzare come ha fatto la juve oppure vendere per soldi veri dei tuoi gioielli quindi condannare no perché io non sono io che condanno io sono un giornalista io devo raccontare la mia deontologia quella che viene citata la mia etica non è di condanna se no ci sostituiamo alla magistratura io devo raccontare questo è il mio compito chiaro chiaro quindi c'era anche un un tweet di ziliani se non sbaglio che ti riguardava adesso te lo vado a prendere non so se l'hai visto e guarda forse sì forse no non so quale a quale ti riferisci ce ne sono parecchi tritta tanto ziliani sì 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 no non ne avevo ne avevo visto qualcuno suo adesso ti faccio qualche domanda lasciati intanto ragazzi me lo mandate la fucina per favore chiedono perché hanno citato l'inter pancio soldi veri ma ragazzi mi fate delle domande non una meme vado ziliani ossessionato vabbè ovviamente anche ziliani si ha piacere di rispondere ragazzi ve lo portiamo qua in live noi abbiamo tutto il piacere poi di processarli insieme forse questo qua ma questo è zaccone c'è un altro uno di zaccone e ce n'è uno di will signori che ti volevo far vedere questo allora aspetta perché io non vedo niente me lo devi acqua ma questo però la mia difesa sì questo è un po più la tua difesa c'è perdita allora non va bene mettiti l'altro con la mia difesa non lo voglio vedere lo sto cercando adesso su telegram che volevo vedere allora per te che guardo un attimo se hanno fatto qualche domanda non puoi fare finta di non leggere no ragazzi io leggo tutto quello che mi scrivete basta che la condanna è arrivata e quindi anche legge c'è la giustizia e no aspetta la condanna è arrivata sono d'accordo però può creare un precedente hai ragione può creare giurisprudenza però fino quando tu vieni condannato se la legge nasce dopo la tua condanna non è che va tanto bene poi comunque la juve non è stata condannata per le plusvalenze perché proprio perché non esiste la legge i 15 punti di penalizzazione sono arrivati per un complesso meccanismo scusate che mi suona il telefono per un complesso meccanismo di che il giudice ha costruito sulla violazione della slealtà sportiva va bene va bene comunque chat non mi state dando una mano quindi però io ho fate domande no no sono io che ho interrogato il gran visir simone avsim stamattina che non so se conosce un tifoso juventino molto presente che ha studiato e gli ho chiesto guarda simone mi mandi un paio di domande che ti piacerebbe che le faccio a guido e ti leggo la prima allora mi ha scritto quando la juve l'anno scorso è stata assolto in doppio grado di giudizio erano già in mala fede oppure la giustizia sportiva era ancora perfetta non so se ci riferisce allora la vorrei non mi piace la parola mala fede quando l'anno scorso la juve gli altri club sono stati assolti è stata seguita quella che era la giurisprudenza di sempre non ci sono metodi per valutare oggettivamente un giocatore quindi la questione delle plusvalenze non è perseguibile quella è stata la razio con la quale i due tribunali tribunale federale la corte d'appello federale hanno assolto quindi la questione plusvalenze e come tra l'altro come sempre era stato fatto ora questa sentenza recente cambia cambia la razio perché utilizza le intercettazioni e oltretutto non condanna ripeto per le plusvalenze ma condanna perché la juventus ne ha fatte utilizzo sistematico e questo utilizzo sistematico avrebbe violato l'articolo 4 questa è la razio di torsello quindi io la mala fede la lascerei perdere non era in buona fede prima cioè era in buona fede prima in buona fede adesso stiamo parlando peraltro di torsello che è un magistrato davvero bravo quindi non stiamo parlando di uno che si inventa le cose dopodiché io nonostante torsello sia un magistrato eccellente mi permetto di dissentire sulla sua sull'impianto che ha costruito ma da in mi permetto di dissentire intellettualmente la mala fede togliamola di mezzo mi raccomando perché questa è una è un'accusa grave che non puoi fare se tu non hai le prove quindi nessuno ha mai accusato di mala fede la la corte d'appello federale o il giudice torsello che ribadisco è un ottimo magistrato perché però me lo convince vado veloce un attimo su due domande perché hai citato su tutto sport inter 1908 di daniele mari ho citato inter 1908 perché per dimostrare che anche siti in qualche modo vicini all'inter nel luglio del 2019 esaltavano ausilio piero ausilio non mi veniva il nome scusate come re delle plus valenze re delle plus valenze in tre anni incassati 134 milioni questo era un articolo peraltro era un servizio che aveva fatto tutto sport che veniva ripreso da questi siti ed era un servizio in cui si calcolavano tutte le plus valenze fatte da ausilio nel cui in quel triennio e si diceva in quell'articolo che anche quest'anno ed era a luglio 2019 ausilio ha realizzato il compito che gli era stato dato da zang di fare 40 milioni di plus valenze quindi siamo esattamente nello stessa sembra di risentire la come dire la telefonata di cui abbiamo parlato all'inizio cioè c'è qualcuno che dice ausilio di fare le plus valenze in questo caso zang e ausilio le fa ma questo non era illegale capisci perché non era illegale quello che aveva fatto ausilio nel 2019 adesso abbiamo scoperto che evidentemente è illegale vedremo un po poi cosa come si evolverà anche l'aspetto legislativo è notizia di oggi che il governo sta studiando una legge ad hoc però tutto dopo fino a dieci giorni fa noi sapevamo che le plus valenze le hanno state sempre perdonate o assolte in sede di giustizia ordinaria e in sede di giustizia sportiva chiaro ti vado però per dirti che nel 2019 ausilio faceva esattamente le stesse cose che faceva paratici nel 2021 quindi anzi del 2020 quindi è un ma perché ma perché così funziona il calcio italiano è una cosa giusta forse no perché poi alla fine si paga si paga il conto però il problema è non 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 far finta di niente non far finta che noi che guardavamo non sapevamo che questo era il meccanismo e sapevamo oltretutto anche che era un meccanismo perfettamente accettato dalla magistratura quindi che cosa dovevamo condannare ti chiedo questa cosa però che è una bella domanda che mi ha sempre mandato simo se la juve è innocente però perché agnelli ha dovuto dimettersi cioè usciamo un attimo dal contesto tuo abbiamo capito questa cosa qua che tu comunque giustamente le tue fonti li sentivi per lavoro volevo un attimo entrare quindi no certo qui è proprio un parere guarda secondo me perché per difendersi meglio e per far difendere meglio il club nel senso che un nuovo cd a nuovi cd re e nuovi dirigenti possono muoversi con maggiore agilità nel difendere la juve perché non sono coinvolti in prima persona e quindi il passo indietro di agnelli è stato anche per agevolare una difesa della società e non delle persone fisiche della della juventus come club più sistematica più più anche un po più aggressiva e quindi tu cambi perché agnelli era parte in causa e quindi sarebbe stato più complicato avrebbe dovuto difendere se stesso il club così adesso lui separatamente farà la sua strada per difendere se stesso il club può difendersi con il nuovo presidente il nuovo amministratore delegato il nuovo consiglio amministrazione che non a caso è formato da avvocati e da esperti di diritto amministrativo quindi credo che sia una scelta strategica non credo che ci si possa leggere una missione di colpa e sai perché perché sarebbe stata una missione di colpa se il nuova la nuova dirigenza avesse dato discontinuità sulla linea difensiva e invece continuano a difendere l'operato della della dirigenza agnelli quindi non è una missione di colpa diverso sarebbe stato se guarda liquido io ti dico superficialmente io capisco che nella complessità di avere una squadra di calcio un brand così importante che sai che si deve difendere magari legalmente io non mi sono mai trovato in quella situazione lì e quindi non riesco a capirlo superficialmente ti dico che io capisco più chi lo condanne dice c'è del marcio però però proprio perché non ho la complessità probabilmente no no capisco però così è una visione un po semplicistica delle cose perché sicuramente però prova a semplificarti la cosa se tu tu sei agnelli e stai difendendo la juve e stai difendendo l'operato è ovvio che difendi il tuo operato e quindi è ovvio cosa puoi dire io ero in buona fede ho fatto tutto questo perché credevo di fare il giusto perché avevo delle mie ragioni però nello stesso tempo sei tu stesso che devi salvare anche te stesso non soltanto club e quindi ovvio che dici quelle cose se quelle cose le dicono altri che non rischiano di loro quindi non hanno tutto sommato non hanno interesse e sono sono terzi rispetto a quello che è successo in passato sei più efficace a difenderti tutti se pari e dice ok adesso lascio nel piccolo nel piccolo è vera come roba raga perere scalavino potrebbero dire eh guardate quelli di prima erano dei cretini hanno fatto tutta questa cosa qua in fondo loro non c'entra niente li hanno chiamati adesso vado avanti hai capito? mi è chiaro mi è chiaro si però ti dico la verità c'è una società sana non ci arriva secondo me in quelle condizioni c'è qualcosa ma infatti posso dirti una roba Andrea guarda è assolutamente con cioè è un'opinione da questo punto di vista io capisco chi ha un'opinione diversa cioè io io la penso che per me da come la vedo è una scelta strategica invece Guido tu a memoria ti ricordi che si è mai cancellato un intero cda? a tua memoria? cioè è strana come roba poi dopo io posso anche capire quello che è il ragionamento che tu mi fai però così di blocco sembra proprio una cosa comunque ti vado avanti con le domande tanto su questa qua è un'opinione come dicevi te lo dico anche a chi mi dice comunque tu l'intero cda lo devi dimettere perché tutto l'intero cda era inquisito perché è responsabile delle cose un consiglio è sempre responsabile quindi lo dimetti in blocco perché se la tua strategia è quella di difenderti con una nuova con una nuova dirigenza devi ovviamente cambiare tutto perché erano tutti del cda indagati chiaro cioè se lo fai lo devi far così dici è certo erano in qualche modo e su questa domanda se la Juve se si come si concilia secondo te questo comportamento dei dirigenti con il tanto sbandierato stile Juve questa è un po' più una provocazione che mi ha mandato Simo però effettivamente è in idiosincrasia una volta una volta l'avvocato Agnelli che forse è il depositario dello stile Juve per eccellenza disse che lo stile c'è chi ce l'ha e chi non ce l'ha e si riferiva in generale a chi nel corso dei decenni è passato alla Juventus sia come giocatore che come dirigente che come allenatore quindi credo che non è che necessariamente chi entra alla Juve deve avere quello stile o deve adottarlo quello credo che sia una questione innata ci sono dei giocatori dei dirigenti che lo hanno incarnato in maniera perfetta altri che non l'hanno incarnato però qua non stiamo parlando di stile stiamo parlando di decidere se dei dirigenti hanno commesso dei reati oppure no quindi la questione dello stile secondo me è una questione che è l'etica della provocazione dopodiché guarda ci sono stati i fior di dirigenti alla Juventus nel corso degli anni che non avevano magari lo stile dell'avvocato Agnelli Guido tu pensi che ci sia prendila con le pinze un complotto da parte della FIGC o di qualcuno contro la Juventus non esistono i complotti un accanimento mettila come vuoi accanimento non lo so certo è curioso il fatto che ti puniscano da solo a fronte del fatto che le plusvalenze si fanno in due quindi questo comunque qualche sospetto che si stiano accanendo su di te può venire però complotto proprio una parola che non riesco mai a pronunciare perché non non credo hai capito quello no però diciamo che chi difende la Juve ok generalmente cosa dice io ti dico chi difende la Juve la deve difendere nella logica quando Berlusconi diceva magistratura di sinistra non è che credeva nel complotto però diceva c'è un sistema che gli fa gioco attaccare la Juve quello volevo dirti ok magari sì però guarda sai perché non mi convincono i complotti perché devi mettere d'accordo troppe persone per fare un complotto dopodiché quindi io non credo i complotti in generale non credo i complotti in politica i complotti dei vaccini di tutte queste robe qua tendenzialmente sono un anticomplottista e non credo quindi a un complotto contro la Juve credo però che possa esistere un accanimento nei confronti di questa squadra da parte di qualcuno ma che può essere anche un accanimento personale credo che possa esserci un'interpretazione del diritto sbagliata ma io preferirei parlare di di interpretazioni di diritto cioè secondo la giustizia la vede in un modo io la vedo in un altro è una è una questione abbastanza sottile le 36 pagine di motivazioni sono sono complicate quindi non è che proprio sono chiare e quindi vuol dire che sono opinabili e quindi parliamo di questo non parliamo di complotti parliamo di robe di robe vere parliamo del fatto che a me non hanno convinto ad altri hanno convinto io rispetto tantissimo quelli che sono convinti che che la Juve sia stata punita giustamente perché non è che sia una roba fuori dal mondo quella sentenza a me però personalmente non ha convinto continuo a scrivere e a sostenere i punti che non mi hanno convinto e poi vediamo insomma tanto io non la posso cambiare la sentenza la sentenza la può cambiare soltanto a collegio di garanzia so che ti devo salutare ovviamente se qualcuno che ha sentito l'intervista o che la sentirà si sente di avere di dover dire la sua noi rinviteremo sia guido che diciamo che è stato citato ti volevo chiedere adesso c'è il nuovo processo quello su diciamo gli stipendi come pensi che ne uscirà la Juve ti sei fatto un idea già sai qualcosa anzi sai sicuramente molto più di noi quindi essendo guarda io ho letto ho letto con attenzione le motivazioni del della della delle plus valenze e mi sono messo in testa che se la razio è quella la juventus rischia di farsi molto male con gli stipendi cioè se il tipo di atteggiamento che la giustizia sportiva ha è quello che abbiamo letto nella nella nelle motivazioni per la condanna meno 15 punti io ho scritto addirittura ho ipotizzato ma in maniera totalmente buttandola lì che potrebbe essere anche il doppio potrebbero darti anche 30 punti se 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 ragionano in quel modo poi la giustizia sportiva è davvero imprevedibile fare i pronostici sulla giustizia sportiva potrebbe andare in serie b secondo te la Juve è un'ipotesi che non devi scartare non di magari non direttamente però se ti danno 45 punti di penalizzazione non in grani e non fai abbastanza punti puoi anche finirci oggi si parla di venti giusto scusami stavamo andando in live ho letto venti punti altri coriore dello sport il coriore dello sport ha scritto venti punti cioè tanto nessuno di noi lo sa ognuno butta lì una cifra è ovvio però che siccome io credo che tutti facciano il mio ragionamento hanno letto quello che hanno scritto nelle motivazioni delle delle plus valenze e quindi dice se quella è la razio se quella è la anche la foga con cui sono state scritte le cose di fronte alla manovra stipendi possono addirittura aumentare rispetto ai 15 quindi può essere 20 può essere 30 può essere ancora 15 l'ultima che mi stanno chiedendo sulla carta io credo guarda sai qual è la differenza è che rispetto al processo plus valenze che è stato un processo che in qualche modo è stato molto sommario come processo perché le difese non hanno sostanzialmente potuto parlare diciamo che non è stato un giusto processo quello sul sugli stipendi sarà un iter totalmente nuovo e quindi ci sarà primo grado secondo grado sarai quando sarà secondo me aprile maggio e che l'ultima domanda che la stavano prima spammando in chat e sulla carta ronaldo non la ritrovo ragazzi quindi non so la carta ronaldo è una delle cose che su questa sono un po impreparato lo ammetto nel senso che non ho capito esattamente che cosa di differente la carta ronaldo rispetto alle altre carte che i giocatori avevano firmato degli accordi laterali per garantirsi il pagamento degli stipendi nelle stagioni successive credo che sia abbastanza simile alle altre quindi insomma forse l'unica l'unica cosa che la rende diversa il fatto che le cifre erano ovviamente più alte quindi più consistenti e che il nome ronaldo sia più eclatante del nome rugani però credo che la famosa carta ronaldo sia semplicemente una delle cosiddette side letter che la juve aveva fatto firmare side letter che potrebbero essere considerate come dire prove del fatto che la juventus non stava in realtà risparmiando quattro mensilità ma ma soltanto una perché altre tre le garantiva e questo è la ragione per cui quelle lettere sono importanti sono una prova teoricamente della di una manovra di una manovra a mascherare delle perdite che in realtà c'erano la carta ronalda credo che sia uguale alle altre semplicemente ci sono più soldi dentro perché in proporzione ci sono tre mensilità di cristiano rispetto alle tre mensilità di uno qualsiasi degli altri giocatori guido io ti ringrazio di essere stato qui con noi non so se c'è qualcuno che aveva volevi aggiungere qualcosa tu c'erano anche delle altre domande ma non sono riuscito ragazzi a farle tutte anzi grazie che dovevi stare dieci minuti è stata mezz'ora no guarda è estremamente piacevole mi piace rispondere mi piace soprattutto rispondere alle domande scomode a volte mi fanno delle domande troppo comode mentre quelle quelle vostre sono più scomode infatti complimenti che sei venuto e mai detto grazie comunque grazie anche da averci scelto grazie a te grazie a te grazie a te mi piace molto mi piace molto il clima bello rilassato cosa che dovrebbe essere sempre la discussione di calcio non aggressiva spero che quindi insomma che chi chi ha più o meno capito male certe cose le abbia capite bene se no altrimenti pazienza grazie guido buon lavoro grazie mille ciao ciao ciao